ciao ragazzi è il risuccesso sono ritornato sotto forma di vtuber questa immagine è veramente orribile credo possa causare i sogni brutti a miliardi di persone chiedo incredibilmente scusa per questa cosa per questo momento per il resto ciao ragazzi benvenuti in live cazzo me io sono una vtuber questa musica metal non mi si addice molto aspettate che metto un po' di chill lo fai ecco fatto venite a chillare in questa streaming buonasera amici come state? tutto bene? come state ragazzi? tutto bene? sto impazzendo sto lentamente andando verso verso la fine sai quando quando più a lungo guardi dentro la pista più alla fine l'abisso guarda dentro di te niente è risuccesso era da un po' che non mi non mi palesavo sotto forma di vtuber e purtroppo questo non è canonico con Paul Dozza non è assolutamente canonico con Paul Dozza che era un altro personaggio che era effettivamente un personaggio femminile questo è semplicemente la mia versione vtuber per il torneo di Fall Guys di stasera stasera c'è un torneo di Fall Guys e siccome Stumble Guys mi piace un sacco ho detto vai perché non memare quindi oggi io e Sedia siamo diventati dei vtuber anche Sedia è in live è in live sotto forma di vtuber è tutto a posto diciamo così ecco fine buonasera ma Sedia è già un vtuber no Sedia non è un vtuber perché Sedia ha un video in loop questa è la mia versione cioè sono io trasformato in vtuber se andate nel live di Sedia noterete che è la sua faccia trasformata in anime girl adesso lo andiamo a trovare appena si smuda su discord così gli mando la stream squad e potete capire per il resto signori ciao Pinolo grazie del nono mese ciao il ProSup grazie del Prime ciao Erba grazie al trentottesimo mese due mesi fa a quanto pare erano tre anni di sub potrei non essermene reso conto fino ad ora beh auguri peccato che tu non sia parte del cast di Hololive ciao Erba grazie del trentottesimo mese grazie a Enderfox del diciassettesimo dalle privi del secondo a me steso per il ventottesimo mese è il momento di un bel ara ara ciao ragazzi benvenuti in live e come state tutto bene avete passato bene questa giornata io innanzitutto apro caduta ragazzi e anzi no prima aspetto aspetto sedia e inizio con con il dirvi che il torneo inizierà alle 21 e quindi abbiamo queste mezz'orette di chiacchiere con 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 sedia e ora vi andiamo a narrare sia come funziona il torneo che come quali sono gli altri proprietari ara ara sedia come stai come stai bro uwu baka stai tutto uwu baka squid game squid game squid game yamete kudasai esattamente così allora ti mando la stream squad solo perché voglio vedere la mia webcam e la tua webcam vicino per farlo devo fare solamente questa cosa la sedia la chat ha avuto una reazione decisamente non positiva nella mia chat c'erano insulti sei malato poldo basta che cringe e roba del genere mi hanno detto ti pago per non farlo quindi penso mi pago per non farlo 500 sab e la smetto da drake buonasera il quinto mese c'è da drake da drake è un pngtuber non è un vtuber dovremmo farla anche la nostra versione da pngtuber io so come si fa è facilissimo si si è facile ma tipo la bocca è cioè tipo fai un png effettivamente della faccia del creatore con la bocca che si apre si esattamente lo farò bellissimo ho visto la versione di vtuber di poldo mi ha preso un infarto signori io sono sediola e tu sei poldina sono poldina penso non lo so mi hai accettato la stream squad si perfetto allora voglio fare uno screen aiuto che schifo questa scena è veramente una scena schifosa poldo è ancora peggio va bene poldo è ancora peggio ah no perché tu sei una una donna matura una donna una streghetta io ho 1600 anni fra ma sei pure la lore sì 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 l'ho fatta l'ho fatta ah facciamoci la lore allora io sono una bambina che studia no no universitaria che studia ovviamente beni culturali all'università di Bologna però non vivo a Bologna perché sennò dovrei vivere nelle case insieme ai tossici ma vivo a casa dei miei genitori ricchi ok ok in periferia di Bologna secondo me ci sei sabato sera vado a bere sempre in tutti quei locali con prenotazione perché quelli senza prenotazione rischiano di diventare affollati di gente cattiva ok ha senso ha senso ti piace? mi piace mi piace ma tipo immagina un vtuber pelato non lo so tipo ma non credo che ci sia perché gli anime non sono mai pelati no? ma invece sì pensa a Goku no Goku ce l'hai capito Goku no non è un anime allora Vegeta è solo stempiato Genshin Impact cazzo sono Genshin Impact dal momento signori siamo Genshin Impact buonasera allora io invece sono una streghetta che però c'ha 1600 anni mia mamma è Lalla Waffle e io faccio tipo le magie però sono clumsy capito quel tipo di tipo ah guarda sono proprio eh anime e in realtà sono gay davvero? sì però non lo non lo dobbiamo sapere fino alla fine ah ok cioè è tipo che non si sa è una cosa segreta roleplay sì allora bro io attivo un attimo il il controller arrivo subito certo allora signori Gambare Gambare Senpai no spettila queste schifezze sei una vtuber napoletana wow Prato oggi ho fatto oggi ho fatto fatto qua guai chi è morto chi è vivo frano non lo sai proprio parlare il napoletano oltre a fare appropriazione culturale fai schifo non ci posso credere prova a dire potato chips io vi ammazzo ragazzi io vi ammazzo io vi ammazzo è un riferimento a una mia vecchia live di una tizia che diceva potato chips con l'accento è quella clip che mi hai fatto vedere dove faceva potato potato chips perché non funziona il controller no lo so ma perché tu giochi con il controller ma si fra vedi che Fall Guys è fatto così ah tra l'altro voi non lo sapete ragazzi ma ci hanno chiesto di scegliere un nome del team e io senza il consenso di sedia ho scelto che il nome del nostro team sarà Stumble Guys noi siamo il team Stumble Guys ragazzi ve lo volevo dire il creatore dietro in realtà è già svenuto da 7 ore ragazzi il creatore sta avendo degli spasmi di cringe seriamente giuro giuro perché io lo stavo avvisando che facevo questa cosa dici attivazione Brescia Blast ma che cazzo attivazione Brescia Blast allora sedia io sono su Stumble Guys anch'io ok allora allora la mia chat no no sono andato in partita che cazzo sto facendo la mia chat non è abituata a a non vedere la mia faccia e a vedere un VTuber però va bene per questa live me la accollo no infatti ma ti immagini se vinciamo il torneo vestiti da che vestiti da VTuber sarebbe il meme totale oddio voi avete incontrato Nico Pandetta su Stumble Guys si abbiamo fatto anche un video al riguardo esatto tipo ho incontrato Nico Pandetta alle 3 di notte su Stumble Guys esattamente con gli asterischi su Nico Pandetta bro ma il mio tag di Fall Guys è fan di Miku numero 1 vedi che è lore based la cosa oddio tu sei già in partita sei su Fall Guys così ti invito certo però inizia fra i 15 minuti dai facciamo una partita al volo al massimo quittiamo va bene vediamo se riusciremo a incontrare Huggy Wuggy su Stumble Guys allora come si fa a giocare insieme allora Stumble Guys apri squadra invita invita no ti invito io ti invito io fra mi hai già invitato ah no ti mi hai già invitato tu accetta ah mi raccomando non bisogna far vedere il codice se fai vedere il codice ma perché sei così oblungo perché oh ma tu e mi sono girato verso di te fra ma che che stai facendo qua cioè nel senso poi non ho capito perché non riesce a prendermi che io sto giocando dal controller ma va bene facciamo coppie a coppie vai 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 si si comunque non giocare a Stumble Guys alle 20 e 44 con la skin di berrofronzo metti la skin da vtuber cazzo è vero non ce l'ho la skin da vtuber o ce l'ho costumi motivo volto parte superiore parte inferiore No, c'ho lo dog No, io non gioco di solito StumbleGuys Fan di Mico numero uno Allora StumbleGuys StumbleGuys Come si fa la partita Oh, ecco, apposta Siamo proprio noi Sì, StumbleGuys Si cade StumbleGuys Signora sedia, scusi il disturbo, ma è vero che viene al comics di Termoli Sì, stasera o domani mattina E diamo l'annuncio su Instagram No Io però vengo reale, cioè non vengo VTuber Io purtroppo non potrò venire Al Termoli Comics per impegni personali Però godetevi sedia Vero Se siete di Termoli In realtà ci sarà anche Dani, Lars Ci sarà Edo, ci sarà Pogodobros Ok, ora voglio venire Perché c'è Dani o perché c'è Pogodoggo? Perché c'è Pogodoggo Pogodoggo è il mio papà Però non è mio papà nella verità nell'anime Basta con questa cosa di mio padre Non è nella nostra lore, capisci? Ah, hai ragione, hai ragione, scusami Eh no, dovremmo essere collegati con l'universo di Moccia Forse io posso dirlo, ma tu no StumbleGuys, come si fa a grabbare le persone? Domanda, ma domanda C'entra Dario Moccia? No, la doccia Come si fa a grabbare? Ehm, Sabacuno Marco Sabacuno Marco? Chi è Sabacuno Marco? Come si fa a grabbare le persone? Zio Pera Io sto giocando con la tastiera perché il controller mi fa strano Come si fa a grabbare le persone, bro? Con... A me con E StumbleGuys, signori StumbleGuys StumbleGuys Pezzi di merda Madonna, io adesso Dai, forza Adesso mi viene competitivo su StumbleGuys 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 No, sto roteando sedia, ho roteato via No, sono roteato via Signore e signori Madonna, no, c'è il gaming Ma come si è fatto, come è fatto ad arrivare? Vince il gaming Praticamente ho attivato il mio Ho bevuto un po' di gamer juice E ho vinto Mi sto sentito in colpo Perché Buonasera, ragazzi Perché non mi conosce Io non ce la faccio Live così Sono una BTuber Perché non mi conoscesse Benvenuto nel mondo del VTubing VTuber Ita Gamers Gamers Vai, vai, bro Vai, vai, vai Ma quanto tempo ci metti? Ma sei caduto? Eh, ma No, tipo una volta sola Ah, ok Come fai a grabare? Gamers 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 Io non ho capito come si fa a grabare Tu fai schifo nell'insultare il degno erede di Takeshi's Castle Va bene a risultare, sì Chi è il degno erede di Takeshi's Castle? Eh, Fall Guys Ah, questo è il degno erede di Takeshi's Castle Io non so cucinare le piadine Cos'è? Perché questa cosa è stemporanea? Eh, io non so cucinare le piadine Quante squadre sono presenti al torneo? Allora, io ne vedo Una, due Mi fa morire il fatto che Polto stia solo usando una figura di una bambina che apre e chiude la bocca Sì, perché io uso la telecamera in tre quarti E quindi Sarebbe stranissimo Allora, come si grava? Beh, signori, io sono una btuber Sono degno, signori, sono degno Ma neanche si muove, infatti Sì, sì, le si muove nei capelli Allora, io mi muovo perché vado a destra e a sinistra e muovo la bocca Al torneo tipo 16 persone, ma non so quante squadre Va bene, Diego, grazie per avermelo detto Siamo otto squadre da due persone Mamma mia Lo sai che vinceremo tutte, è vero? Ma io non credo Signori, il torneo sta per iniziare, ma stiamo facendo una partita di prova Bro, sono uscito per sbaglio Sedia, ma devi stare con questa tizia Bro, sono uscito per sbaglio Sei proprio scemo, guarda Sono uscito per sbaglio Vabbè, apposta, non ho approfitto per andare ai comandi Ma c'è la creative, ma che è? Fortnite Ma c'è il battle, ma che è? Fortnite C'è il baron, c'è il baron Pushiamo Cos'è il baron? È League of Legends No, ragazzi, come si apre? Ah, così E controller No, gamerinos Allora, io spero che non sia uno di quei giochi dove dobbiamo essere molto troppo competitivi Perché io non sono molto competitivo Ti ricordi l'ultima live di Fall Guys? È finita? È finita malissimo È finita veramente male È finita male È finita molto male E infatti io ho paura per questa live Ciao mille Vegas, grazie del quarto mese Ciao Bello C'è Vegas in live? No, non è Vegas È uno col nick simile Digli di riportare i mates Comunque Berro, Fronzo e Franzo sono in team insieme A me sta cosa fa troppo ridere Berro, Franzo C'è Berro e Franzo? Team The Ancient Dovevevo chiamarlo Berro, Franzo Allora, vi leggiamo i team per correttezza di loro Per farvi capire Ah, fuck Team Stumble Guys Sì, sì, grazie mille del prime Poldo e sedia Capito che poi il team dopo si chiama Fagioline Con Croato, Mister e Queen George E poi sopra c'è Stumble Guys con Poldo e sedia Sì, immagino tipo il meme, no? Di quel vojack bimbo con il lecca lecca Con scritto Fagioline E poi Stumble Guys Mega chat a sinistra enorme Poi abbiamo Nobile Scimmie Che sono Muso e Rage Gli Spuntati che sono Tearless e Leo Ma gli Ancent perché sono over 36 Dai, poverini Allora, io direi di puntare Leo nel caso Sì, sì Sultanato con Cecchitano e Mollu E Predestinati con Lollinoba e Federica Va bene Allora, ci può stare Ci sono tre femmine in questo torneo Wow Adesso ce ne sono cinque Ah, mi raccomando Finita la partita devi Ah, io devo mettere la classifica Aspetta Finita la partita devi mettere il risultato nel canale Mi raccomando Allora Mister League ha bentornato Chi ha 36 anni è ancora giovine, vero? Che vuol dire devi mettere il risultato nel canale? Fra, io non so fare queste cose Devi mettere la classifica, amico mio Ah, nel canale, certo Sì, no, ce l'ho, ce l'ho Guardate ragazzi, c'è la classifica Noi siamo Stumble Guys Bagliato Fate pronostici, ma certo I mod sono liberi di fare tutti i pronostici che vogliono Buonasera Okami Sì, sono una VTuber questa sera Per il meme Cosa ho fatto? Sedia, togli sto PNG Ti tiro un pugno in faccia Cosa ho fatto, Sedia? Cosa sto facendo? Vi dovete calmare ragazzi Vi dovete calmare Sedia, aiutami Cosa ho fatto? Piuttosto spammate Stumble Guys in chat Grazie Ma perché io non vedo la classifica? Oh, vedo la classifica Buonasera Perfetto, dai ragazzi Stumble Guys in chat Stumble Guys Dai, smetti di averlo Senti di fare il tossico Ma chi l'ha organizzato questo torneo? Nova? Nova, sì Ok Quindi non Stumble Guys No, non Stumble Guys Non c'entra Ah, ok Peccato Quindi possiamo dire Quello che vogliamo sul gioco Si vede la classifica? Si vede? Cioè, più o meno Vedi, Stumble Guys Si è al primo posto Con zero punti Capito? Siamo noi Siamo noi Oh mio Dio Comunque il gioco Si chiama Fall Guys Non è vero Grazie Grazie Mi dicono che questo Modello da VTuber Mi somiglia molto Ragazzi L'ho scelto Per il mio debutto Perché Perché aveva i capelli Aralancioni Sono proprio io Tearless Ciao Noob Grazie per la sabbregata Ciao Sono Tearless Raptor Ciao Sono Tearless Raptor Buone Oh Che è successo? Cioè, ma di che non posso Autorizza Porco due Ma perché non c'è Dov'è il codice Per partecipare? Scusami Vi ho veramente deluso Mi hanno detto Cosa Sedia è pelata Ragazzi No, non sono pelata Capelli arancioni Ma istruzioni Eccolo Ma il codice Non c'è ancora Mancano ancora Mancano sette minuti ragazzi All'inizio del torneo Sedia puoi dire Baca No Ma quindi hai perso Nella tua partita Stupido Baca Ma faccio Vuoi fare una? Ma abbiamo sette minuti Beh, poi usciamo Ci mettono Un'eternità Sono sette minuti Sono lunghissimi Enter 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 Ma qui mi hai vinto La partita Ma che è la creativa? Ma perché c'è Lukitti? Troppe informazioni C'è troppe È pieno di colori Sto gioco È pieno di colori Immagina se in chat Ci sono tipo dei vecchi E vabbè Ti lascio immaginare Ragazzi Io ho 1600 anni Quindi siete liberi Di fare quello che volete Perché hai 1600 anni? Eh perché Sono Sinceramente non lo so Sono psicopatico Sedia Guardami Scusa No allora Dovete capire che stasera Che c'è? Sono un pipo io Sono un enorme pipo Sono pazzo No allora Dovete sapere Dovete sapere Dovete sapere Che stasera Sono una persona Un po' pericolosa È un po' Baca A causa delle mie Troppe ore È un po' Baca Allora ragazzi A causa delle mie Moltitudine di ore Su Genshin Impact Sono diventato così Ragazzi Voglio uno spam Di Sugoi In chat Grazie No Sugoi No ti prego Sugoi Smellai la Che favore Smellai la Cabaca Allora Sedia Farai mai un evento A Trento Solo se posso venire Come la mia ragazza Che mi guarda malissimo Oddio Sedia Te devi sapere Che due giorni fa Mi è venuta la febbre E da allora Sono molto malato Quindi ti ho visto Sotto questa forma Abbia è venuto Un collasso organico Meno male che Sette minuti erano Un sacco Dario Mocha Guarda 33 giocatori in partita Ancora a coppia Mi hai chiamato Dario Mocha A me mi devi chiamare Mi devi chiamare Btuber Gamer Ciao Ciao sono Tearless Raptor Sugoi forse è meglio dire Suga Sedia Sugoi Sedia Uno Arara Baga Magari vi state chiedendo Che cosa sto facendo In questo canale Discord Beh Salve Io sono Tearless Raptor E benvenuti in questo Nuovo video Salve Sono Tearless Raptor Una volta mi sono chiesto Chissà com'è giocare a Skyrim Con le mod Ma hai visto che Bella Gianda Ha fatto il suo Summer Camp Secondo me dovremmo andarci Andiamo al Summer Camp Di Bella Gianda Allora così si grabba Bella Gianda Bella Gianda Oggi scopriremo Perché Tearless Raptor È ricercato In ben 35 paesi Soggetto pericoloso It's very nice Oh Gamers Gamer Juice Gamerania Ma perché sono così un gamer? Come faccio Allora io penso Che tu sia Che credo sono più forte Di Stumble Guys Ma guarda Su questo Forse anch'io Sei appena volato in cielo Devi dire Devi dire No E fai una voce Grazie Aiden Grazie del Prami Oh no Scusa Anime girl Addirittura che schifo Ma perché sono così forti Sti cazzo di nerdi Merda Stumble Guys Stumble Guys Stumble Guys Sono tutti bambini Ma mi dici perché Mi dici perché C'è Stumble Guys Ma non Stumble Girls Cazzo ne so Stumble Girls C'è pure Fall Girls Veramente Hai le palle in faccia Fall Girls C'è L'ho giocato io in live Io sono il Cerebro Podcast Oh my god Cerebro Podcast In my chat Oh my god Non eri Non eri Tier Lest Rapper No 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 L'ha detto un tizio in chat Ma perché nessuno Alla can Ciao Ani35Z Grazie del Prime Forse non hai capito Che stasera sarà una live Che vi ricorderete Per tutta la vita Perché spareremo Una serie di stronzate Una dopo l'altra Vabbè Mo Non mettere tutte queste aspettative Io penso di Di poter Guys Stumble Non mettere tutte queste aspettative Perché Guys Stumble Mancano tre minuti al torneo Frate Ma il codice ancora non c'è No vabbè ragazzi Non è che sono pro Comunicazioni Nome evento Fall Guys Fighter Non mostrate il codice Ah devo metterlo nel titolo Niente Dobbiamo togliere VTuberita Ma come dobbiamo togliere VTuberita Ma dobbiamo uscire dalla Dalla cosa Sì Ma come Tier Lest Rapper Tier Lest Rapper Non è vero Non è vero Ciao Sono Tier Lest Rapper Allora Ragazzi posso dirvi una cosa Benvenuti in questo nuovo video Di BitLife Dimmi tutto A parte Di aggiungere Ragazzi siete due grandissime gnocche Posso offrire la cena entrambe E poi possiamo fare una cosa a tre Ciao Sono Tier Lest Rapper Baca Smettila Baca smettila Baca ci sarei tu Grandissimo Cosa? Ha detto qualcosa No Ha detto Oh 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 Fall Guys Se noi ti distruggeremo Volevo dire Tier Lest Rapper Noi ti distruggeremo Ok Allora Io non sapevo Chi partecipasse al torneo Però ho letto i numeri Delle squadre E quando ho visto Che il vostro nome È Stumble Guys Quelli sono Polto e Sedia Infatti Chi è entrato nella stanza Polto e Sedia Secondo me Nova Non conosce Stumble Guys Infatti non si è fatto problemi L'ultima volta Si è arrabbiato Perché ho scelto Quei due sul server Come nome E me l'ha fatto cambiare Ma era Nintendo Ah è vero Questo qua mi sa che è fatto giusto For Fun Non credo ci sia nessun tipo Di collaborazione diretta Con nessuno Forse Ciao Sono Tearless Raptor Nel caso Ciao amici Io Ho shoppato La Skindi Ello Kitty Veramente Puoi dire Ciao sono Tearless Raptor Con la tua voce Ciao sono Tearless Raptor Oddio L'ho detto L'ho detto Ciao sono Tearless Raptor Puoi salutare Dicendo Ave popolo di Youtube Come facevi nel 2015 Ah è vero Che tu dicevi Ave popolo di Youtube Bellissimo È l'originale Bravi ragazzi La chat è tutta in hype Pazzesca questa cosa Ha detto Ha detto la frase He said the thing Come quando nelle canzoni Dicono tipo Il titolo della canzone O nei film Dicono il titolo del film Esatto esatto He said the thing He said the thing Ma come Ci pare i tornei Dove ce so io Che tanto sa già Che prenderà il cazzo Cioè Mollu Ciao Tearless Raptor Guarda In questo torneo Non c'è Non c'è Non c'è pericolo Guarda Non c'è pericolo È Mollu È che gli hai Fabio Mollu L'avete già vinto Hai lasciato la speranza Per la vittoria Mollu Sei l'unico che gioca A Fall Guys Probabilmente qua dentro Io non gioco A Fall Guys Allora va bene Non c'è un giocatore Di Fall Guys Che dice di non giocare A Fall Guys Ciao Mollu Come stai È quello che ci gioca È Nova Tutto bene Tutto bene Come va a casa Malissimo No come male Sì va malissimo Ma come male Perché succede Eh perché Va malissimo Ma poi ne riparleremo dopo Quando abbiamo finito Il Rivals Di cosa Il torneo Di Stumble Guys Sì sì Bisogna vincere Lo sai che c'è un valio 10.000 euro Sì 10.000 euro No 10.000 troppo pochi In V-Bucks Ok In soldi del monomoli I soldi arena De Fortnite Ma si devono dichiarare V-Bucks? No 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 Ah ok No però sono tipo I gettoni d'oro Che tipo Convertiti valgono Molto meno È una manovra strana È tipo che a metà Se li prendi lo stato Li prendi come Roblox Sì sì Esatto esatto Ok Ci vediamo dopo Per Roblox Ragà Sì sì Bella ci vediamo dopo Su Stumble Guys Ciao Ciao ragazzi Ciao Adopt me simulator Su Roblox Ciao Sono Tearless Raptor Oh è arrivato il codice Non fatelo vedere Codice della stanza Allora signori Ma a me manca il teammate Ma come manca il teammate Vabbè comunque Sedia volevo dire Che mi ha fatto molto ridere Il tè morto sullo sfondo È perché ero morto dal cringe Cioè no sono morto dal cringe Va bene Ciao ragazzi Ciao Ciao dopo Puoi accedere tu Sedia Mostra spettacoli Spettacoli personalizzati Unisciti Come si fa? No annulla Come si fa? Fra Ah cambia spettacolo Wow Spettacolo A me non lo fa Fallo tu Unisciti Unisciti E adesso faccio Wow Ma non farlo vedere Non far vedere il codice Non lo vorrei vedere Sedia Non mi hai fatto vedere Maledizione Buonasera Speedrun di come si chiude la live di Sedia Mi immagino tipo Apre la live Vediamo cosa fa Sedia Chiude Oh no Sai capire il contesto Esattamente Allora signore io sono una vtuber Vieni a Lucca Comics Sì ma col vestito da vtuber Dai fra entra in partita Ci perdiamo il torneo Ma tu hai entrato scemo Perché non ci sono? E che ne so io Io vedo Nova Ci sono tutti Tremendo Tremendo perché non ci sono? Eh non lo so io Spettacoli personalizzati Unisciti Oh mio dio Guys False Ragazzi questo è il momento Della caduta Dei guys Caduta ragazzi Ci sono andata molto male Ciao a tutti i caciotti No è ciao Ciao a tutti i caciotti Io sono un bambone ragazzi Ah ciao Sono Tearless Raptor Come si chiama il vostro team? Stumble guys Ci chiamiamo Stumble guys Stumble guys Noi siamo Elenco dei giocatori Ma chi è Queen Georgia? Non lo so Non mi interessa Pro dai Andiamo a scherzare Adesso dobbiamo pensare solo Ed esclusivamente Ad una cosa Stumble La droga Allora ma Stumble che vuol dire? Chat Stumble vuol dire Movimentato Mosso E donna Veramente? No Ok I famosi Ragazzi caducei Nel senso Dai e Stratopici Ragazzi non ci sono gli Stratopici Davvero Chi sono gli Stratopici? Erano Erano il vecchio team di Tearless Raptor Di quando giocava a Mario Kart Quando abbiamo fatto il zonere Madonna Ragazzi caduti Vuol dire inciampare Ah sono i ragazzi inciampati A me dicono saltanti Sono proprio io Quello è Bruno signori Sono proprio un anime girl Allora Poto sono appena nato Qualche consiglio Allora per camminare Stai attento A mettere davanti Prima il piede sinistro E poi il destro Perché il piede sinistro? Perché sennò diventi mancino Let's go Finché sei una bambina Col cappello Non ti parlo Non sono una bambina Ho 1600 anni Io ne ho Sì Fra Fra devi dirlo Fra dillo Fra dillo Io ho 12 anni Buonasera Ciao Poldo 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 volevo dirti Che tu sei il mio Cosplay preferito Di Vasco Ciao Poldo No Allora ragazzi I fan qui su Discord No Devo contattare subito Lo staff I fan Con questo Discord No Ciao Ciao Come stai? Bene 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 Nova sta scommettendo Sul fatto che perderai Poldo Quindi Buonasera Ah state facendo le scommesse Sotto banco Buonasera Buonasera Vi porto via Scusate E' entrato un fan Purtroppo Grazie Nova La parola di questa sera È basta Basta Ma quindi voi con sto nome Volete fare il record mondiale Del livello dove salti Giusto? Giusto Cosa? No? Cosa? Ecco il nome Stumbleguys Sì 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 Allora Nova Sei venuto a dirci qualcosa O vuoi solo dirci Gamba Essendo VTuber Rivolgetevi a noi Come Giuseppe e Carlo Ho paura Ho paura Giuseppe Tu sei Giuseppe L'abbiamo riempito Di 12 frasi Supercazzole È andato via Doveva darci qualche informazione Forse Grazie a lei Invar Per il prank Allora Abbiamo Wombo Poldo Che dovrebbe essere Mister Poldo Akbar Ragazzi Poi abbiamo Io sono Wombo Poldo Ma perché mi steppo Un d'Akbar È scemo di guerra Mi piace bene C'è Tearless Raptor? Eh sì Era prima in canale Ciao sono Tearless Raptor Era proprio lui Vado a chiedergli Di dire ciao Sono Tearless Raptor Aspetta Ok grazie Un attimo solo Tiar Puoi dire Ciao sono Tearless Raptor Fotti di Poldo No 200 sub E finalmente arriviamo Dimmi L'ha detto? No mi ha detto Fotti di Poldo Con la voce di Tearless Raptor Sono Aaron Blaze Aaron Ma c'è pure lui al torneo No se n'è andato Ah ok se n'è andato Era passato Il torneo di Fall Guys Allora Sta iniziando bro Ci siamo Ci siamo Allora Grazie per aver aspettato chat E di non aver chiuso la live Per tutti i motivi Che vi abbiamo dato Questa sera Per farlo Però vedete Se resistono qua Vuol dire che resistono ovunque Siete veri fan Se resistete questa sera La sciola Che cos'è? Zesty Westy Tower What is this? Allora Ce la possiamo fare Potenza della fonte Ci siamo Ci siamo Come giocare? Stavo leggendo Ce la possiamo fare Allora Let's go Stumble Guy Stavo leggendo sedia No questo sei tu Vai sedia Parti 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 Ma questi sono livelli facilissimi Dai Stupidi Questi sono livelli da vaga Stumble Devi dire Stumble Guy Fra Se no non vale Stumble Guy Stumble Guy Stumble Guy Stumble Guy Stumble Guy Chi è lo chitti E lo chitti è stata investita Da una palla gigante Però una scena veramente devastante Stirlers Raptor Sono caduto giù dalla torre How is it? No bro sono morto Sono ultimo No veramente Sono ultimo Ma questo è successo Per colpa del capitalismo Allora Questo è il tipico episodio Di How I Met Your Mother In cui Io conosco tua madre Non tua Nel senso In generale E lo chitti Troppo bella come skin Vero? Allora Come si Gamera? Come si sgamera? Ma che cos'è sta roba Fra? Ma io cosa devo fare Precisamente Bro ma io sto Continuando a cadere sotto Ma cosa devo fare? Gamers 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 No ragazzi Stumbleguys Non mi piace per nulla Fra ma come si fa? Come si gioca a sto gioco? Ma come hanno fatto già a qualificarsi? Ma cavolo Io ho perso un sacco di tempo Bro Vabbè però Mi qualifico Mi qualifico Giuro Mi qualifico Fra non mi qualifico Sono appena Ce l'ho fatta Sono stato rimandato In un sacco di materie Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta I did it Sedia I did it I did it pure io all'inizio credo o mio dio pensavo di essere arrivato alla fine ma sono un imbecille ma sono un imbecille ma sono proprio un imbecille l'abbiamo fatta che hai fatto io sono tornato proprio all'inizio di me il percorso al contrario che mi sta inseguendo suppongo dove sei dove sei dove sei ecco di ecco di corri 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 allora devi entrare nel buco devi entrare nel poldo concentrati santo dio poldo concentrati maledizione allora vai sul cacchio salta ok passa di là sali no mio dio non ci posso credere ok ma non è vero sì allora cosa devo fare adesso stava su quel coso su quel cosa ok bomba poi vai lì vai sulla cosa sì ok ok ora di entrare in quel coso centrale vedi questo no quello sì bravo salta su è quello che hai perfetto sali sul blu perfetto ok passa questa cosa qui ma era più facile per i periti scemi di guerra va la vai vai via una mania sedia allora chiedo scusa bravo perché sono il vincitore chiedo scusa perché purtroppo a causa dei problemi dati da che vuol dire sono vincitore ma anche a me dice vincitore ok io non so che posto sono arrivato ma nemmeno io come funziona come al solito come al solito come al solito fra scrivi primo livello e quanto sei arrivato ma io vincitore c'è scritto non è che mi dice il livello non lo so quanti erano i posti per essere classificati non lo so creativa è la creativa metti metti allora allora ho arrivato 12 su 12 a sedia perché sei vtuber perché per il per il meme bro per il meme boh io non lo so che che punteggio sono arrivato bro io non lo so ma come prima sono arrivato io prima niente già il litigio lo sapete che posto sono arrivato se lo sapete ditemelo per piacere no sono sono confusa sono confusa 8 su 12 io 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 8 non 12 io dodicesimo posto poldo sei un imbecile e infatti questo è proprio un momento imbecile però l'abbiamo fatto no no ma l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto nonostante sia stato un momento imbecile l'abbiamo fatto è vero siamo stati un po vabbè ma che cretini gli stumble ehi non dirmi più che gli stumble sono perché gli stumble sono forti siamo ancora numeri 1 con 0 punti siamo ancora numeri 1 con 0 punti con 0 punti numeri 1 signori abbiamo un punto abbiamo un punto siamo ancora primi perfetto perché siamo classificati entrambi predestino ok quello che vuol dire vuol dire la skin di shrek su four guys cosa davvero no 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 non c'è non c'è mi stanno trollando in chat non dite scemenzo ma hanno tutti un punto io non lo so bro c'è veramente la skin di shrek io sicuro primo che sono volato dalla sedia mi ha detto bro c'è veramente la skin di shrek ma stai scherzando sì non è un scherzo c'è l'ho cercata c'è veramente no 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 fra però non può essere così e ma mi sa che è una cosa super limited comunque mi mancano tre abbonamenti chat ai 200 abbonamenti dai ce la possiamo fare vai che bravo sedia quando ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo sono proprio io in realtà lalla ho detto che nella mia loro sei mia madre quindi mi dispiace adesso hai una figlia o 1600 anni partita 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 o siamo noi gamers ma com'era un finale com'era un finale ma serio scusate per il abbetto online ma che era andrea che la possiamo fare gamers ma questi sono comunque sono livelli custom a quanto vale scivola bro si questo gamer ho fatto il che merone gamer time ok ok dai 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 spingi 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 forte no non sbattere non sbattere al muro allora allora sei mia figlia assolutamente gamers ok ottimo gamer hai fatto i compiti mamma dai non sto giochiamo a full guys a stumble gamers se io salto sul gamer time very good very good allora il segreto per vincere su stumble guys e i cheat come faceva cadiax come si fa a fare sta cosa sono spawnato nello stumble nel titolo si l'ho messo per il meme spero di rappresentare al meglio la categoria con la mia skin no sedia sono caduto dalla mappa cazzo no non va bene sì comunque sono mappe custom c'è palese perché stiamo perdendo ok allora io ho un problema di ok guys ciao no bro veramente basta mi sto arrabbiando ti stai arrabbiando beh sono ora di vedere me ma quindi sono allora sono difficili nove è un vtuber no non è vero sei caduto di nuovo si fa non ce la faccio ma pure tu sei caduto di nuovo tira ho fatto cadere tir le sr 7 ciao no no azzottare pezzo di infame chi è chiunque tu sia ci sarai su pandora o forse ma dai ti arless hello kitty hello kitty e terno E lo che ti si attira Vaffancoore Sto soffrendo te lo giuro Livello finito non ricordo Questi hanno finito anche addirittura il livello Ce l'ho fatta Allora io sto per dire una cosa bannabile Devi fare il doppio salto Vuol dire il doppio salto Non c'è il doppio salto su stumble guys Oh mio dio basta Allora Numero uno Poi Madonna ma ho fatto una partita Nonostante sia una ragazza Visto che se non ci metto Fai le posizioni Un punto per il livello passato E tre punti bonus se vincere il livello Basta Molto più semplice Va bene va bene Allora scriviamo solo passato Dai sedia C'è l'ultimo posto Sedia vai Vai sedia c'è l'ultimo posto Sì tu contro Tearless Raptor Tear è caduto Tearless Raptor Lui non è Tearless Raptor Scemone No c'è un altro Tearless Raptor E' un altro Tearless Raptor Ok fra Ce la possiamo fare Tear è un pollo Non ce la fa Oh invece ce l'ha fatta bro Sbrigati Devi sbrigarti fra Tear ce l'ha fatta Tear è caduto Vai 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 sedia Fai sedia Doppio salto qua Però questa cosa è stata proprio bannata Dai dai fra devi sconfiggerlo Ce l'ha fatta Beh si però sta un po' il caglio Ce l'ha fatta Bro ce l'ha fatta Mi hai messo un sacco di pressione Sto sudando Cioè volevo dire non sudo Perché sono un anime girl Però si Si Cioè ma guarda Questo c'ha la skin E c'ha pure la Come si chiama La victory pose Ma che imbarazzo F fra F Hai perso You are imbecile You are imbecile You are scarso Non sono imbecile Mi prendi Si sei scarso Cioè tu dovresti sapere Ma perché tu hai vinto Si Vabbè No Dovresti sapere che Noi legione Dei player Di Genshin Impact Siamo forti A questi giochi Fra ti devo chiedere Una cosa che non ti ho chiesto prima Dimmi Ma chi muore Su StumbleGuys Muore nella vita reale Bro sei morto Perché io Perché mi sta facendo male un po' Bro sei morto su StumbleGuys Si Ti avevo detto Di non Di morire su StumbleGuys Alle 21 e 18 Quando c'è Agiwagi Che ti guarda Bro Fra Come devo fare Eh devi Devi comprare Il mio libro Anzi anzi Devi iscriverti Al mio corso Allora Agiwagi Alle tre di notte Ah ma lo posso chiamare Su Whatsapp Chiamalo su Whatsapp No Chiamala Talking Tom Dio santo Talking Tom Allora io ho chiamato Minni Minni Mini Mouse Su Whatsapp Minni Mouse Alle tre di notte Cazzo c'entra Minni Mouse Oddio Agiwagi Sta iniziando bro Sta iniziando Ok Mi raccomando chat Datemi una buona fortuna Per piacere Chiamabaldibasics Su Whatsapp Vai Come giocare Come giocare Hack into this broken level What the fuck Gamers time Gamer run is Gamer Adni Non girare il fidget spinner Alle tre di notte Madonna Che schifo Ma perché io devo Devo partire Da Da destra Della mappa Buonasera Giumalda Giumalda Allora andiamo di qua Signori Lo sapete Che cosa ci vorrebbe Adesso Per spronarmi A vincere Delle belle sub Delle tette No Cioè volevo dire Yamete 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 kudasai Yamete kudasai Yamete kudasai Yamete kudasai Leo Fango 17 Fango Ok 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 Gamers Siamo insieme Siamo i gamer Siamo i vtuber Ah No bro Mi ha cancellato Questa cosa Mi ha dato un colpo Tra capo e collo Mi ha veramente Resertato Allora gamer Attento No Ce l'ho fatta bro Perché il timer Come hanno fatto Già arrivare Ragazzi vi ho detto Che ho 1600 anni Quindi potete fare Quello che volete Grazie per i pompelmi Grazie davvero Non vedo dove Ok 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 Stumble C'è il traguardo C'è il traguardo C'è Passato Sono passato Sono passato Bro ma se è un punto Solo Per chi passa Pazzana Cioè se è un punto Per chi passa Mi sono agitato Cioè quando finirà La partita Non lo so Quando tra il primo E il secondo Uno non passerà Cioè non lo so Secondo me sono Allora sono comunque Dei livelli Grazie Mufustri Per i 400 bits Davvero Gentilissimo Io non sono passato Partita è finita Ciao Simone Hai finito il livello No Non sei passato Madonna ma se Guarda se dobbiamo Passare all'ultimo Livello Vabbè se io dico Allora però Possiamo fare una cosa Se scrivo in chat Che invece l'ho Finito il livello Eh bro Guarda che già Siamo terzi Con due punti Sultano e predestinati Tutte e due primi Con cinque punti Bro cosa devi fare Lo sai che Fall Guys È una cosa importante Per me Te l'avevo detto Te l'avevo detto Bro non ti scelgo Ma non ne ho detto Dovevamo arrivare al terzo Al terzo posto e basta No Non vale inventarla ora Dovevamo dirla all'inizio Adesso perdo l'incredibilità Ah che palle Allora Signori Allora siamo Ma se dite che siete femmine Vi danno punti Credo Credi male Come si fa a parlare E tenere la bocca chiusissima Eh dovrei prenderne tipo così Come dovrei parlare Scusa Devi prenderne tipo così Ciao ciao Io sono Io sono Sedia Ecco come parlano Sedia e Cadiax Sediax Sadiax Io sono un po' Sadiax No non era quello che volevo dire Allora Sei un cagasangue Ma come ti parla Ma che brutto insulto Ma credo che questo sia uno dei peggiori insulti Che mi abbiano mai scritto Ma per l'amor di Dio No Shrek non fai Che cosa è stato Fra Mi ha vibrato il controller Ma quindi voi siete maschi Sì Live chiusa Ma perché Voi siete maschi Live chiusa Ma questo è quello che succede A Trieste Quando c'è un po' di vento Comunque Lo sappiamo Ma no Mi stanno arrivando le cose in faccia No Non mi fate venire le cose in faccia Dio santo Kawaii No bro Sto venendo riportato indietro la mappa Corri Corri Aia le palle in faccia Non era quello che volevo dire Ma va bene Ok ok Se salti vai più veloce bro Ma io già sono passato Stavolta devo finirla Stavolta devo Fuck Stavolta ce la devo fare Per il meme Per Fall Guys Per Stumble Guys Anche Vabbancuno No fra mi ha buttato giù la palla Non è possibile Che La palla di chi? La palla La palla di pelle di porco E tutti i pesci Ve ne regala Per vedere le palle di porco Ma perché non posso vedere Da dove arrivano le palle Perché la visuale è solo così Ma dio Pango 17 Allontanati da me Ragazzi mi sta inseguendo Questo psicopatico Ma dov'è? Allora io non sono Ragazzi Mi sta inseguendo Mettetela di chiamarmi Pappamolla Per piacere Non sono Né un pappamolla Né un pappamoscia Vi prego Smettetela di essere Offensivi nei miei confronti Grazie Ma porca puttana Allora signori Benvenuti nella mia live Non family friendly Dove gioco a stumble guys Ma non posso vedere Da dove arrivano le palle Sesso Stumble guys Ora mi devo un attimo Calmare Perché mi sto agitando E il mio chakra Si sta spostando Dal centro No Leo L'offesa più grossa del secolo Allora qua non ho fretta Qua non ho fretta Leo è il solito compito Di metterti in pressione Madonna Leo è veramente Pericoloso Stumble Stumble Basta Basta Death Note Death Note Oh siamo insieme Ciao Dai 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 Vai Vai fra Io sono Mi vergogno No sono caduto Bro ma perché Sono veramente Il degno erede Di Richard Benson Veramente Sì Ok Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Dobbiamo solo confidare Non correre Non correre Vai piano Perché Sono tua madre Ci sono gli ultimi due posti Ce la possiamo fare Insieme Come dei veri gamers C'è l'ultimo posto Sedia Possiamo farcela Oh mio dio Ma è lontanissimo Fra Come non detto Siamo gli unici due Che sono rimasti fuori Siamo gli unici due Che siamo rimasti fuori Siamo gli unici due Che siamo rimasti Vabbè Possiamo sempre scrivere Guarda che possiamo scrivere Livello Finito Ci ho visto Nova dai Ci ho visto Nova Nova se ci stai vedendo Non abbiamo finito Il livello Dai Colpa di Leo Fai un avviso Allora Va bene Vado da Leo Ad avvisarlo Della situazione Buonasera Chat Comunque Leo Leo consideralo Questo un avvertimento L'hai finito il livello L'hai finito Non mi pare Non mi pare Sei scivolato Sei scivolato Considera Considerano un avvertimento Considerano un avvertimento Veramente Ok ok Vabbè Cioè Voglio che tu Stai scivolando Qui non Non sei La prossima volta Che ti incontro in Trentino Ti sbatto la testa Sul 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 cartello Del pericolo orsi Io non ci sono In Trentino Ma lui non vive in Trentino E chi vive in Trentino L'orso 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 È rimasto là Eh sì No è andato in vacanza Ciao livello Ciao 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 Sono Grazie Dottor Cut Fine Ciao Sono Buonasera Come faccio ad essere una VTuber Devi essere come me Bro Rainbow Shadow Lined Vai Shadow Legend Rainbow Shadow No ragazzi Se Leonardo Non si ficca le mani Su per il culo Gli le faccio ficcare io Se non scrivete è contato come nullo Holy shit Stai non ho scritto Ah è cominciato il livello Corri Che tipi di VTuber mi piacciono Che significa Oh no sono morto No ragazzi mi sta inseguendo Leo Ma Leo è quello là con la testa verde? Sì Ma puoi attivare i nomi sopra Così è più semplice Come si fa? Ah visualizza nomi Ma io non la sapevo sta cosa Sdrogo corse Sdrogo corse su StumbleGuys Ciao bellissimi Allora che tipo di VTuber mi piacciono? Io ragazzi ne conosco pochi Quindi non so se Fare il gamer e dirvelo O non dirvelo e basta Ok Sono passato Mi sono qualificato bro Veramente eh? Sì Allora io ci sono quasi credo Vai 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 Ok gamers Mamma mia che gamerata che ho fatto C'ho Leo davanti Madonna Leo è un otaku? Sì è vero Leo è il L'otaku Non è un otaku È l'ota Chatto perché mi dite bugiardo che non sei altro Cosa volete? Perché non sei arrivato? Non ti sei qualificato? Sono dietro di te Perché hai mantenuto anche questo silenzio? Nooo Non ci posso credere ma devi far ripartire da qua Ciao Stumbleguys Mi sono qualificato non ci posso credere Questo gioco fa schifo Mi sono quasi qualificato Lo giuro mi sto qualificando Grande GG heads GG heads GG heads Questo gioco fa schifo Stumbleguys Questo gioco fa schifo Ma chi è qui in Georgia? Ancora Che programma stai usando per il VTuber? Te lo dico dopo la live Sedia 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 Mi ascolti Non sta andando per nulla bene Io ho vinto Elena grazie del nono mese E Gino patatino Platino Grazie del sesto mese E grazie a Cozzuio per il Prime Allora bro Dimmi Mi si è aperto un taglio nel dito Per colpa tua Che cosa? Mi si è aperto un taglio nel dito Perché mi sono arrabbiato dal torneo di Fall Guys Vedi che mentire non funziona Ah ma devo scrivere che non sono passato No no Non devi scrivere niente Credo O non devi No scrivi che non sei passato Fra il tuo nome è difficilissimo però Mufustri Mufustri Grazie dei trecento Ladies and gentlemen Se avete il Prime Usatelo Magari sul mio canale Se mi sta cercando la chat di Google Baffanculo Mi senti? Ma devi calmare No Non sono passato un cazzo Guarda Gioco cinese Guarda Sei uno Che punto stiamo? È stupido Siamo penultimi Basta mi sposto da sedia Ma che ho detto? No perché? Qui in Giorgio è una che gioca a Fornet In poche parole Dai bro Non c'è bisogno Allora signori Insultare qualcuno così Ma va Gamers Ok Andiamo col Gamertime Gamertime Gametime TV Gametime TV ragazzi Ok Ok ci siamo ancora Che vuoi dire Gametime TV? È un canale di Youtube Game Time TV Ma vai Madonna stavo per sbattere tutto sul tavolo Però sono una gamer girl Quindi devo mantenere la calma E fare Allora L'idea è che Devo andare verso Da questa direzione Perché altrimenti Tire l'Estraptor Vieni qua Tire l'Estraptor Tire l'Estraptor Vieni qua D'ammazzo D'ammazzo C'è il traguardo bro Come c'è il traguardo? Sono terzo Minchia Full guys Poi l'ho bevuto troppo Stavo per vomitare Vai vai fra Fra ma ti rendi conto Che io sto ancora all'inizio Ma come? Dai ma è semplicissimo Sto livelli Dai ragazzi Non parliamo di videogiochi Ma questo è stumble guys È un videogioco Ma ragazzi Il canale si chiama Parliamo di videogiochi Come facciamo a non parlare Di videogiochi? Si chiama furs Furs Sì però non è normale Scrivi di essere arrivato Ciao Nova Come ciao Nova? Dove? Eh l'ho visto Dai sedia Madonna ma perché sei psicopatico? Forza Stai Ma vedi Sei psicopatico Ma sei pazzo No No ma vedi che cosa mi hai combinato Sono un anime girl E sto giocando a stumble Che hai fatto? Gambare gambare senpai Io Non sono Arrivato Al traguardo Mamma mia Stumble guys Che è primo? Bro non siamo nemmeno Tra i I top set Non siamo in top set Non siamo in top set Ah no si Siamo sesti Stumble guys No più scimmie sono Muso e Regia Assedio la piace Signore Allora ce la possiamo fare Poldo deve scrivere di essere arrivato in top 3 Ragazzi non funziona così Franzo finito Berro Franzo Berro Franzo La sedia a due gambe è caduta La fisica ha vinto No Per chi dovete scrivere Io sto per vomitare Te lo giuro Allora Stumble guys Ce la possiamo fare? Mamma mia che agitazione Allora Chat Allora Facciamo i veri gamer Facciamo i veri gamer Ho bisogno di voi Ho bisogno della vostra Del vostro potere Ho bisogno che voi scriviate in chat Sugoi Grazie Sugoi Dai Ah questa è Takashi's Castle Praticamente Io non ho nemmeno preso la porta L'importante è vincere o partecipare Che salto enorme che ho fatto Stumble Guys Ok ce l'abbiamo Questo ce l'abbiamo Allora uno Lo dobbiamo vincere almeno uno Almeno uno lo vinciamo Ok No 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 Allora io Avevo una maledizione Sul stumble guys E oggi mi sono ricordato Perché non giocavo più a stumble guys Cioè? Tra l'altro Tra l'altro non mi viene più Di chiamarlo fall guys Ormai è stumble guys Allora mi Tutto bene fra? Ci sei? Sto davanti a Tearless Raptor Questa è l'unica cosa che in questo momento mi sta consolando Ma porca Sì però Allora Io vi dico In questo gioco Non sono né bravo Né fortunato No fra ma il coso Mi ha sparato a destra Stupide scimmie Sempre destra bro Ho sbattuto la testa bro Come hai sbattuto la testa? Mi sono fatto male Ok Perfetto Allora Possiamo arrivare a un checkpoint Grazie a Dio Chi è che si è inventato sta mappa? Poi mi volevo ricordare Scusa ma come si fa sta parte? Vari giocatori di stumble guys no? Sì Mamma mia Ma stiamo insieme Ma stiamo insieme fra? Ce l'ho fatta? No Vabbè Ragazzi Ma perché cado sempre in quel buco? Una matata ragazzi E ben ritrovati Ciao mollu Dovevo tirare l'estrapto e è caduto Ho ancora una possibilità Io mi prendo la palla in faccia certo Come al solito Aia Sono passato Ma perché? Una matata Sembra Sei con Franzo Berro Franzo Che bacca che sei poldo Ciao ragazzi Purtroppo dovete sapere che è full guys Dove vai? Ma dove vai? Ma dove vai? Vai Felix Stupido Dove vi salta dritto? Là Vai 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 Ma ci sei ci sei stupido Bravissimo imbecile Lion sta giocando a fortnite No è qui in Georgia quella Ciao yas yisun per il prime Guardate che stiamo facendo Il torneo è con lion Eh sì infatti sta giocando a fortnite O a full guys Oh berro Franzo Gamers Ho visto come è caduto Ha fatto Ok ragazzi Ciao sono Tearless Raptor Siamo stati qualificati Godo che fango 17 non sia Anche tier Poverino Allora ce l'abbiamo Il vincitore Berro finito Franzo finito Berro Franzo Fedez ha incontrato Felix oggi A Isola Bella Guarda io non so chi sia Felix Il mio unico Felix è PewDiePie Se è qualche Qualche BTS Non mi interessa No non sono nei BTS Felix Ok 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 Allora Allora Alice si è scioccata Quando ho detto che sono Fed PewDiePie o un BTS PewDiePie è Fedez 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 Fra è arrivato al sub goal Sei Fedez Ah io sono passato Dovevo scriverlo Salve Sto guardando nella tua live Fra Sono passato Per semplificare Basta che scrivono di voi Per entrambi Così facciamo Oh chiaro Molto più facile Ma Poldo Non stai mai uscendo Dimmi Berro Arrivo sotto Arrivo sotto Che vuol dire Non stai mai uscendo Non stai mai finito il livello Ma sei una pippa Ma che cosa dici Che gli ultimi due li ho finiti Sono io il problema Ah se n'è andato Mi ha scambiato per te Sì mi ha scambiato per te praticamente Gamers Sei sul canale della serie VTuber A due gambe come una vera VTuber Esattamente 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 Ma DrXL Sei tu DrX Sì è DrX Non è Fabio Z Perché ho detto Fabio Z Fabio Z U ha due gambe Sono proprio io Gamers Gamers Domanda Quindi Fermati Perché siete entrambi delle anime Perché un corpo ha la sua anima Allora io volevo capire una cosa bro Dimmi Perché se sei Fedez Sì Possiamo fare muschio selvaggio Perché tu sei Luis Sal No Però basta che sei tu Fedez No No C'è un in chat che dice di essere Jax A posto ragazzi Ma come a posto Ragazzi voi non lo vedete Ma in questo momento c'è Alice Che mi sta facendo i massaggi Quindi Questo livello lo passerò Molto facilmente Guarda che pro Pro gamer Fra non ti far distrarre Mi ha detto se perdi godo Che vuol dire che sei tu la donna della relazione Questo l'hai scelto tu Guarda sullo stream È vero Ok grazie Che bello hanno messo un livello facile Sono molto felice Io sono ultimo È caduto qualcuno Non è vero Non sono più No Le palle in faccia Mi devo prendere Cioè volevo dire Non volevo dire Calmiamoci C'è rage dietro Madonna frazzi Veniamolo Veniamo rage Ti stai concedendo Ma Ti ho visto cadere un po' male Bro Ma è stata colpa Della Della cibernetica Sostituzione umana Alberi Montagne No fra io ho paura delle altezze Ho la periscopia Sotto Sotto c'è un paesaggio Mi sta Mi sta mettendo ansia Game time tv Puoi continuare Come sai Grazie Ah come si salta Ah Ai 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 Sono al checkpoint Madonna bro Me lo sto mangiando Sto livello Perché fa Aspetta aspetta C'avevo il checkpoint Godo Dove cazzo devo andare? Sopra bro Sopra Dietro Ma qualcuno Cioè non è arrivato nessuno ancora C'è nel torneo Brumotti No Dai dai Ma perché porca putt Stavo per far cadere un fortnite player Ce la possiamo fare Mi si sono addormentate le gambe Sono caduto sedia Questo a causa della Dell'inflazione Può succedere fra L'importante In questo mondo È rialzarsi Ok di qua non funziona Ok Io sono perso Che vuol dire Che vuol dire Che vuol dire che sei terzo Fedez No ho detto perso Ah perso Ok ok Madonna sto livello quanto è lungo No sedia Mi hai buttato giù Brumotti di merda Ho detto ciao gamer E tu sei caduto Ciao gamer Grazie amore Ok gamers Sei caduto Stupido Stupido Te lo giuro Mi stava facendo male La pancia Per quanto Mi stressa Full guys Ricordamelo Per la prossima volta Full guys Dove devo andare? Dove sta cazzo Devo andare? Ok Allora chiunque Chiunque ha progettato Questo livello Mi piace come ragioni E come metti Al centro del gameplay La sofferenza Suffering Ah mi sono incastrato Non vedo niente Non vedo niente La stupida telecamera Di Paolo Signor Paolo C'è qui Giorgio Ok Basta che passa questo Sono passato Sono qualificato Sono Fedez 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 I'm Fedez Chiara Ferragni Prendi nostro figlio Dobbiamo fare gli 512 storie Perché è così che viviamo Io non capisco come si fa questa parte Fa vedere Dove sei? Qui sta Eh Mettiti su quella a destra Dritto Ok Passa a destra Qua Sì Bravo Era un trick E ora ci sono dei Cubi Vai Un secondo Bro Ora Nova entra E dice Sei scorso Sei scorso Io sono Fedez Basta che uno passa Ciao Saturn Grazie del quarto mese Basta che passa uno Basta che basta uno Giusto? Sì Ok Basta che scrivi tu Scrivilo tu Ma perché devi scrivere Sedia no? Eh oh Non devi scriverlo Ciao ragazzi Sono Fedez Voglio darvi un sacco di soldi Grazie Fedez Allora il mio Il mio IBAN Allora ti do il numero Della mia carta Quello davanti e quelli dietro Sei pronto? Te li dico subito Grazie di cuore Aspetta che c'è il leone Che fa un po' di rumore Zitto Ok Dicevi Hanno bussato Allora 1, 2, 3 Sì 4 Ok 6, 1 Scemo Ok Perfetto Grazie Fedez Alla prossima I numeri dietro I numeri dietro 6, 1, 0 Ehi Questo era un insulto Aspetta aspetta Se vuoi te ne dico altri Tipo 0, 3 Inizia la partita ragazzi Fedez deve andare via 0, 5, 5, 3 Basta non ti darò più 0, 2, 5, 6 I numeri stavano a sparare Oh Maria Salvador Te quiero mi amor Te quiero mi amor Te quiero mi amor Leo stava cantando Diventerai una spara Te quiero mi amor Te quiero mi amor Ah ti volevo chiedere Scusatemi ma Ovviamente l'orco A me Tearless non piange mai Ah vero Eh questa è una bella domanda E perché senza lacrime Scemo Si chiama Tearless Senza lacrime Allora Vi starete chiedendo Quando finisce questo torneo Anche io Zitto Alvaro Soler Perché così Allora Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Vai bro Vai bro It's time for gaming time Ma io questa qua Me la ricordo No Si questa era una mappa Di Rocket League No bro Stiamo giocando A Fast Tumble Guys No vedi Vedi la gente stupida Negli ingorghi stradali Porco due Quando se ne lamentava Youtube Anch'io Aveva ragione Ci ho provato Ho provato a fare la provata Uno Due Tre Vabbè Voglio solo salire Voglio salire Alvaro Soler Niente Ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ma perché cadono Frecce Questa è la città dei gamers Città dei gamers Ok Vai così Brutto Ci riprovo Lotteria Niente Io Allora Ti devo dire La mia onesta opinione Su Stumble Guys Te la devo dire No Che è il momento No ti prego Non dirlo Perché no Però non è normale Cioè nel senso Io sto passando Con un cristiano Sulle strisce pedonali Perché devono per forza Investirmi Questi cosi Tazzardà Leo Che schifo Leo Leo è un pezzo di merda No 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 Leo Leo adesso diventa il mio cerrimo nemico Io lo ammazzo Ti ha buttato giù? Mi ha buttato giù Se lo vedi Digli che per ora I Los Hermanos Sono in guerra Ma lui non è un Los Hermanos È un amichetto Cosa? Ops Sono caduto giù Sedia Mi sto per arrabbiare Iambelle Jacomo dei Pantellas Jacopo? C'è un momento C'è un momento Tra me e Leo Allucinante Gamers? Ce l'ho fatta? Niente Niente Sedia Niente Sedia Io odio la vita Odio le persone Odio tutte le persone Che mi circondano Tutte le persone attorno a me Sono tossiche Berrofronzo e Federica In particolare Ai Amogus Buonasera Punto e pasta Buonasera Grazie per la Ma vai a quel paese Non voi Non voi Nel senso Voi grazie per la sub Santo Dio Full guys Full guys Full guys Oh Sto dicendo full guys E funziona Full guys Eccolo Ok Full guys Perfetto Bene Ma perché? Perché? Perché si deve comportare In questo modo? Però sono fatta Shitting su Stumbleguys 24 Forel Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Dai dai bro Dai Onision Dai Onision Dai Onision Very Gamers Dai Onision Ciao Onision Chi è Onision Ok Ciao Onision Ciao Onision Ciao Onision Ciao Onision Ho fatto una parte Tu non hai idea di quanto Ma perché non potevamo Decidere di perderla Questo Questo Dai Forza Non è che dovevamo Decidere di perderlo È che ti devi concentrare Devi Devi entrare nella modalità Gamer Fra sono le 21 e 48 Se gioco per altri 10 minuti Io mi metto a urlare Ok Vedo di perdere velocemente Va bene Sto per alzare la saturazione Di Stumbleguys Si può fare? C'è Leo C'è Leo Che ha dei problemi Goodbye Leo Ok Preso il checkpoint Certo Ha senso Perfetto Scusatemi Scusatemi ragazzi Sto Volevo fare un test Get out Queen Georgia Grazie Queen Georgia È caduta giù Si l'ho visto Ah Perché stai volando Non sto volando È Leo che vola No comunque Devi passargli Il vincitore Di nuovo io Allora Sedia Io Mi copio in collo Il messaggio A sto punto No Non devi scrivere Che io ho perso Non devi scriverlo Invece tutti lo scrivono Il partner Cosa fa? Non devi scriverlo Non devi scriverlo Però l'ho scritto Non devi scriverlo Puoi fare un giro Dall'altro lato Grazie ragazzi Davvero Gentilissimi Nel dirmelo Dopo che ho perso Veramente Ma guardate Io Mi sento proprio contento Di averlo letto Da parte vostra Bro Veramente Ti vuoi calmare Mi sembri troppo agitato Devi stare nel chill Capito bro Stai nel chill Hai appena urlato Perché se giocavi Dieci minuti Stai nel chill Stai nel chill Va bene Stai nel chill Capito? Aspetta ti metto La musica del chill Wait Ok Per l'agenda Si sono stato io Il colpevole Dell'atten Dell'attenzione Focussata Terennemente Sui videogames Ah è vero ragazzi Io mi ero dimenticato Io alle 22 Divento pericoloso Io ho alzato la saturazione Buonasera ragazzi Benvenuti in un nuovo camp di StumbleGuys Oggi faremo una partita con i cheat Oggi abbiamo una partita con i cheat Questo non si deve rifare Non importa Noi lo rifaremo Perché questo è quello che noi facciamo Quindi oggi è partita StumbleGuys ragazzi Oh mio dio Ma questo è un pericolaggio nuovo Questa è una mappa nuova Pazzesco ragazzi Mettete like a questo video E commentate Sono le 3 di notte Ora è la mia attenzione Sono le 3 di notte Ora riconosco Allora ragazzi Aghiwaghi Guarda a destra della mappa C'è Aghiwaghi 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 Ho aspettato tutto questo tempo Lo stai facendo uguali StumbleGuys FallGuys Se vedete Aghiwaghi Lasciate un commento ragazzi Se vedete Aghiwaghi Esatto Lasciate un commento Ma soprattutto vogliamo mettere Un pollicione in su Per sedia Che nonostante alla febbre Oggi è venuto qui Live su FallGuys Nonostante tutto Sta su FallGuys FallGuys Signori Ripetetelo com'è FallGuys Se siete ai parti Alle parti di questo video Commentate Caciotte puzzolenti In chat Cosa si deve fare Guarda che accrocchio di scemi Che polli Che polli Adesso tiro fuori la glocca Ammazzo tutti Porco Ma di qua non si può andare Sto cittadino Guardando il sistema L'ho citato Credete aver citato No Berrofronzo Cristoiddio Ah là si torna indietro No no Berrofronzo Mi ha fatto perdere un sacco di posizioni Ragazzi Incredibile Pazzesco Ti prego Cadi Grazie Grazie Da Drake Meno male Pensavo di aver fatto la pro gamerata Invece sono andato indietro Davvero Davvero L'ho capito Grazie ragazzi L'ho capito dopo Per favore Stupido 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 Scusami Pepiri Ora capite cosa stanno provando i bambini in questo momento Cioè capite che i bambini sono qua con l'attenzione focussata Che fanno No va brutto pezzo di merda Ridammi tutti i soldi che hai Ridammi poi Ok 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 si può fare Bro cosa è successo Ciao Edo No no stupida femmina mi ha fatto cadere la femmina Frati vuoi calmare Per favore stiamo giocando stiamo facendo un gioco Mi ascolto Gianni Vezù Scusate ragazzi Ebbene sì ragazzi purtroppo sono caduto non so dove devo andare Questo è un labirinto È un labirinto Un labirinto terrificante amici Mettete like per aiutarmi a scappare da questo Terrificante labirinto Ti sei trasformato proprio in youtube kids Bellissimo Ti prego insegnami Allora ragazzi sono le 3 di notte Adesso chiamiamo su whatsapp mini mouse Ok ok La sto chiamando eh No qua è bloccato Sta funzionando Allora ragazzi non so chi mi risponderà Sono sicuro però che sarà un Game time Game time Dieci cose bannate in Cina No sono caduto dalla mappa Cristo il signore onnipotente Bastardo il mondo Scusate questa non è una cosa molto da youtube kids Allora signori Sì purtroppo come vedete sono caduto Abbiamo fatto il 2 guys Questo è successo perché insomma Abbiamo fatto il 2 guys Ho qualificazione raggiunta Ma come hai fatto? Ho fatto il gamer Ma dove cazzo devo andare? Cristo Dio Allora signori Allora Allora Ve lo dico com'è Mini mi ha risposto Cosa? Mi ha risposto e mi ha detto Che sarebbe venuta alle 4 di notte Suka Madonna che coglioni questi due Che coglioni C'erano due cretini Che erano messi là a fare Tipo No ma calmi Ma perché devi offendere? No ma stavano No non voglio offendere E che stavano aspettando Va bene Scrivi subito che abbiamo finito Entrambi il livello E ci meritiamo un posto Nel podio Va bene insomma I punti non sono proprio il podio Per il punti non sono proprio il podio Fatemelo rimettere normale Scusatemi Ecco fatto Che stavi facendo? Madonna E io avevo la saturazione a mille Allora signoristi Saturazione Saturazione significa anche amicizia In questo gioco Saturazione uguale amicizia Però siamo al sesto posto Con 13 punti Non potremmo mai recuperarne Se consapevo Il primo posto è a 38 punti L'importante per me E che non arriviamo ultimi E tra l'altro voglio solo dire una cosa Sì L'ultimo posto È di Leo e di Tier Che stupidi Cioè Io Questo è proprio il momento Che stupidi Invezzles Ma proprio da Da screenare Questa cosa E mettere su Forchance Beccati questa Tierless Raptor Dovrebbe essere Quello che dite Quello che dite in chat Beccati questo Maltese Beccati questo Tierless Raptor Io ragazzi Ve lo giuro Amicizia saturata Certo Io voglio sapere Che dice Siete ultimi Siete proprio dei bambocci Ehi Bambocci Non è un termine Da utilizzare Inattitutto Non siamo ultimi Preferirei Brutti Coglionazzi Mi fa male la testa Madonna Io sto sudando Io mi fa male Te lo giuro Mamma mia Sto sudando Sto guardando Un anime girl Che si muove Io non ce la faccio Facciamo le piadine Io sarò tipo pazzo Io sarò pazzo Ciao Tristan Grazie del Prime Grazie a Misseccio Per il quarto mese A Saturn Ciao belli Nuclearizziamo la casa Di Tierless Raptor No no Siete dei kid Imparate a giocare Babbè Ehi I am my man Complimenti Complimenti Per il Toxic Ce l'ho fatta Ok Tierless Raptor Posso 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 Tierless Raptor Scusa Perché Ti fa saltare qui E però Tu sei bastardo Infame Io vado dritto Per dritto Ho preso il timing Perfetto Allora io credo Di avere un problema Con i martelli Però adesso Lo risolviamo subito Cos'è che problemai Con i martelli Quindi sei dall'altro lato Che vuol dire Dall'altro lato Tranquillo No 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 Io sto davanti Ho finito la parte Dei martelli Preso il checkpoint Ok ok Tierless Raptor Oh ciao bello Ciao ballon Ciao bello Grazie Grazie Matteo Grazie Matteo Su Su Vai Boldore Vai Boldore Game time Aia Entrambi proprio Due babbunni Ok Madonna ma Tierless Raptor è proprio scarso a questi giochi Si vede che è uno Io non ho capito Non si vede la partita Scusatemi ragazzi No vabbè Non ho parole No words about this person QDSS time Oh bro Facciamo un torneo di peggle Torneo di peggle È prerogativa di Alice Lo deve organizzare lei Ok ok Poi fammi sapere quando lo organizzo Perché voglio partecipare A tutti i costi Schifoso Chi era quello schifoso? Bro Vedo il traguardo Però è fastidioso Arrivarci È tedioso Arrivarci Non è fastidioso Ma come fa Anna sta gente Ho visto Tierless Raptor Caputarsi Come ci si aggrappa Sto avendo Sto avendo un problema Manca quei due sul relax What the fuck Io Io mi sto Io sto per vomitare Te lo giuro Fra Salta Salta più veloce Salta Salta ancora Ce l'ho fatta No non ci posso credere Io ce l'ho fatta Io no Mi ha lasciato fuori fra Buonasera Shikiko Mi ha lasciato fuori Schifoso Mi ha lasciato fuori Schifoso Mi ha lasciato fuori Schifoso Mi ha lasciato fuori Tierless no Lei ho finito Allora tu scrivi che abbiamo finito entrambi Tu scrivi che abbiamo finito entrambi Hai scritto sedia è passato Sedia no Sei proprio scemo Oddio Sbagliato Sì io ho vinto Poldo no Io ho vinto Poldo no Dai Allora No in realtà Gioco di merda Allora vediamo a che punto siamo Vediamo a che punto siamo Stumbleguys Continuiamo ad essere Mi raccomando non lasciare la classifica Ho posto Gimers 13 punti Sono le 22 No ragazzi Sta succedendo Sono le 21 e 59 State attenti al creatore Oh no Sono le 21 e 59 Sto per sorgere la luna Io sto per diventare assolutamente pericoloso Sto diventando pericoloso il creatore Oh no E poi è un problema serio Sì Siamo Abbiamo fatto un punto Io sto guardando le lancette dell'orologio bro È finita Sono le 22 Sono le 22 e 59 Quasi le 22 Aiuto 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 Staccate la live scappiamo Non giocare a Stumbleguys No cazzo Sono le 22 Ragazzi state attenti No 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 Non ce la faccio Non ce la faccio Ah la classifica Vero Ho torto il gioco Allora Io sto per fare un attentato Ai danni di questo torneo E sono sicuro E sono sicuro Che ci sarebbe No non tu Non tu Non tu ovviamente Non ti azzardare mai più eh Non ti azzardare mai più No 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 Non tu Non tu Non ho detto tu stupido Ho detto io Che sono caduto Ok No 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 Perché lo sai che cosa succede? No no Lo so Lo so Sei pericoloso Ma perché? Cioè non è che sei pericoloso No 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 Sono pericoloso E come Cioè guarda Io adesso ho appena speso 200 euro Io non vedo dove devo andare Ecco Allora Ah sono tornato indietro Ho speso 200 euro No Fra me dove devo andare Cristo Dio Ah devo andare qua Allora io mi ero fatto Mi ero fatto confondere Dalla situazione Ce la possiamo fare Ho speso 200 euro Com'è speso 200 euro? Che cosa hai fatto? In corsi di formazione professionale Adesso Ma adesso? Eh ma non li hai ancora visti? Cosa fai? No 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 Sono pronto a vederli Ah sì ma che mica Cioè hai guadagnato Capisci? C'ho guadagnato e come? Eccolo qua Primo assegno 10.000 euro Ragazzi Non ho neanche guardato I miei corsi di formazione professionale Da imprenditore Bro cosa devo fare? Bro non lo so Salta E che cosa? Ah c'è l'altra strada Qualificati 0 su 12 Ce la possiamo fare signori Ce la possiamo fare Gamers Ce l'ho fatta Ok Abbiamo preso il checkpoint Ok 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 C'è Tyrlest Raptor là Madonna Ma sta parte Ok 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 Succedono tante cose L'importante Ho preso il corso di Cadiax Ragazzi Ok No mi hanno fatto cadere Schifosi bastardi Maledetti Tyrlest Raptor Sia tu maledetto Sto andando a casa di Tyrlest Raptor Ragazzi No io so dove abita Sanno non c'è andare Perché non c'è Ah occhio Ho preso una trambata in faccia Su Fall Guys Cos'è che hai fatto scusa Una trambata Ok ora dove cazzo dovrei andare? Qua Ok Possiamo farcela Ok Fall Allora ragazzi Effettivamente Ma io ho cura No la fretta bro Questa è la fretta Quando il culo ti preme La cacca ti esce E tu cacchi veloce Però quando esce Poi Quando esce Poi fa schifo Capisci È la metafora Della cacca di vita Fra io ho appena capito Una cosa Cioè Se io non penso Come Fall Guys Ma solo come Guys Non cado Guarda Per me è solo Guys Questo gioco adesso Solo Guys Solo Guys Possiamo farcela Solo Guys Ho fatto il checkpoint bro Ok No comunque Invitare i pro gamer Di Fortnite qua È stato stupido Di Fall Guys Volevo dire C'è il traguardo bro Vedo il traguardo Ci sono solo 25 secondi Bro cosa devo fare? Corri Tearless Raptor Sono caduto bro Sono caduto Mi caco addosso Ho riso troppo Mi caco addosso Si è passato? Ho pensato No 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 Guarda quelle tier No fuck La trambata di nuovo 8 secondi 8 secondi Ho una sola chance Ho una sola chance bro Ho una sola chance Sono morto Porco Dio Scusatemi ragazzi Chiedo scusa A tutti quanti Però purtroppo Quando sono in questo stress Succedono queste cose E mi diffiedo Allora io so che Tierless Raptor Non è passato Chiedo scusa Allora tengo a precisare Valgono solo punti Sul livello finito E sulla vittoria Come bonus Che vuol dire? Vabbè Basta che lo sanno loro Poldo e sedia Non sono passati Neanche Leo E Tierless Rubber Allora Ce la potevamo fare Ce la potevamo fare Ce la potevamo fare Chiedo scusa a tutti Io so studato Non posso far niente Mi serve un ventilatore Allora Io voglio capire Quando finisce il Mia madre si è incazzata Io mi sa che possiamo Quittare Che ne pensi? Va bene Per me va bene Per me va bene Ci aggiudichiamo Il penultimo posto Allora Ti volevo solo chiedere una cosa Dimmi Ma quando rifacciamo live? Non lo so Penso che è quando Abbucchi una mamma D'un culo a sorda Ora verrai scomunicato Dalla sedia E cazzo di opinione hai Te l'hai chiesto? Io? Matteo Dragon Grazie del Prime Bello Matteo Saumini Che opinione ho Della chiesa? Allora Dipende da quale chiesa Perché L'edificio Una cattedrale Un normale punto Di sfogo Di svago Dai basta Mi interessa Gioca Allora Run finale Traduci per favore Questa mappa di Jason Dai questa è brevissima Difficilissima Ok Ma che cosa è successo? Cosa è accaduto? Abbiamo tutti perso Ok This is a checkpoint Ok This is a checkpoint Tearless Raptor Sia tu maledetto Schifo Gioco di merda Dalla Dai però Tearless Non era Tearless Raptor La seconda volta Gi Gioco di merda Giuseppe Smettila Gioco di merda Dirò Gioco di merda Gioco di merda Ogni volta che cado Fra Ok Allora Pensala così Ce l'ho fatta Solo guys Non full Solo guys Non full Dove l'hai letta? Sta stronzata da sigma Solo guys Sono fullato Bro Sono caduto giù Non vale Il tuo cazzo di corso Di merda Schifo di gioco Di merda Del cazzo Vaffanculo Mamma mia Sto gioco È per bambini Stupidi Mamma mia Ci giocano I cretini No no Giumalda Ho detto Giuseppe Non Giumalda Giuseppe È il secondo nome Di poldo Uno non è vero Due Vaffanculo Basta Poi cottiamo Poi cottiamo Il torneo Basta Bro io sto per quittare Veramente perché Non posso sudare A quest'ora In più ho dei vicini Non posso sudare Che mi rispettano E io non posso Stiamo qua Stiamo qua Guarda Dove sei Sei morto Dove sei Io odio sto gioco Io odio sto gioco Guarda Guarda Vieni Vieni Io sto gioco No bro Bro stai zitto Non ce la faccio Fra non ce la faccio Io sì Cosa ridi Stupido Boicottami le palle Boicottami Cristo Dio Ok gamer 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 Non ho una idea Di cosa ci sia dopo Solo guys Ricorda Sto gioco fa schifo Altro che fall guys Ci siamo Ci stiamo prendendo Io e te In last round Addio Credo 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 che si siano arresi Anche loro Credo si siano arresi Tutti Credo che questo livello Sia troppo difficile Per un giocatore Medio di Stamble guys Ci sto provando Ragazzi Però la mia sanità mentale La mia sanità mentale Sta finendo Io non sono fatto Questi giochi da bambini Io gioco a Call of Duty Cristo Dio Ma perché fa il doppio salto Perché mi madre Me l'ha detto Perché c'ho problemi mentali C'ho problemi nella gava Perché Squid Game Perché la società moderna Mi impone questi canoni Muori Franzo Stupido Leo Stupido Leo Aiuto Ce l'ho fatto Leo Leo ci stanno Ho fatto il checkpoint Ho fatto il checkpoint Ma ce l'ho pure io No Stupido Perché non ho il checkpoint Ragazzi ho bisogno di un sugoi in chat No ho 20 secondi bro Ho 20 secondi Ho 20 secondi Lo so ragazzi Ho solo 20 secondi Ho solo 20 secondi bro Allora io devo dire Che sono contento Che tu ti sia messo In modello di VTuber Perché i baci No No dai ma guarda Ero al traguardo Basta che ho quitto Io sto quittando Sto quittando Sto quittando Sto quittando C'è da chiedere a Sto quittando Sto diventando Pericoloso Per me Pericoloso Per me E le persone Vicine A me Si Poldo e sedia Non sono passati Ok Poldo si è trasformato In un mix Tra il Masseo E Dario Greggio No non è vero Gioco di merda 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 Gioco del cazzo Vabbè bro Pensa il lato positivo Gioco di merda Gioco di merda Pensa il lato positivo bro Vaffanculo Gioco di merda Gioco di merda Gioco di merda Vaffanculo Qual è il lato positivo Dimmi qual è il lato positivo Forza E con Amazon Prime Se collegate il vostro account Al mio canale Al mio canale A me mancano 3 sub A me mancano 3 sub a 200 punti A me mancano 3 sub a 200 punti Ma quanti mancano Guarda un video del lato positivo Non lo so Menomale che non stai vedendo il mio pompino Alla bottiglia Cosa scusa E quanto mai ho scritto quanto manca Alla fine Sono triste Però io sono molto triste Mario Gresseo Morite bastardi No ragazzi Non si scrivono queste cose in chat Perché mi hanno messo il clown Perché mi hanno messo l'emogine del clown Bastardi Bastardi infami Voi chi siete? Noi siamo gli stumble guys Sì Fran Ma se quel livello Già era impossibile Figurati questo Sì vabbè Ma questo ti devi coordinare Per fare il coso Con il salto Con il Ma voi siete proprio scemi Ah io sono andato a bordo mappa Per farti capire Ah io ce l'ho fatta Allora Tearless Ce l'ho fatta di nuovo What the fuck bro Io sto percependo Non ce l'ho fatta dire Io sto percependo La morte della vita di Tearless Raptor Ce l'ho fatta Ma sono bravissimo Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta A me mi sta facendo male il cuore Ma io ho solo notato Che full guys Sta diventando sempre più complicato Come già Ma per queste poi Credo che siano mappe Da bastardi proprio Che veramente Chi se le inventate Deve Gli deve venire un coccolone Soggetto pericoloso Mamma mia Un coccolino plus Un coccolino plus Ce l'avevo quasi fatta Schifo Madò Schifo Madò Schifo Schifosi Toglietevi Da la schifosi Ce lo siamo beccati In faccia Allora No dai Il momento gamers Non posso adesso Ma dio santo Leo Ti ammazzo Ma non c'è Leo E qua da me Giorgi Stai calmo Tutta sta ostilità Perché quale motivo Dai schifoso Mondo schifoso Fai un profondo respiro Fai un profondo respiro Allora No Poldo che voglio andare a casa Voglio uccidere tutto Voglio uccidere la mia famiglia Io voglio andare a casa Te lo giuro Voglio andare a casa Ce l'ho fatta Minchia Appena ce l'ho fatta Porco Giuda Guarda Ce l'ho quasi Dai Ma mi si mettono In mezzo ai coglioni Schifosi Non è possibile Non è possibile Matteo Picarazzi No Basta 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 No 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 Non ti devo prendere con me Non c'entro io Sei stato tu che mi hai provato Tu non ci crederei mai Ce l'hai fatta? Mi è andato Mi è andato oltre Ce l'ho fatta? Non è vero Io sono seriamente colpito Dall'ammontare di rompimento di palle Che sto provando in questo momento Io sono veramente Io sono veramente intorpidito Da quanto questo gioco faccia schifo Sei una merda Gioco del cazzo Ma Ancora Ce l'ho fatta? Ma come ce l'hai fatta? Ma easy cosa? Che ci abbiamo messo 12.000 tentativi Easy cosa? Porco di No basta Oh guys Ok ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Sto andando avanti Come cazzo Non lo devo fare questo? Ah così Ok Oh guys Ho buttato un nuovo giù dalla mappa Schifoso Tanto mancano 13 secondi Non arriverò mai alla fine Schifoso E invece Chiudala mappa Bastardo No Basta 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 Sono stanco Basta io quitto sedia Io sto quittando È stato bello Ciao sedia Come stai quittando? Sì sì Quitto quitto Non ce la faccio Basta Veramente ho la pressione altissima Abbiamo finito no? Abbiamo finito Sì sì Abbiamo finito Sì 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 Abbiamo finito Guarda le motte Sfigati Abbiamo finito Abbiamo finito Abbiamo finito È andata finita Non ti preoccupare Basta 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 Ok abbiamo vinto Abbiamo finito Abbiamo finito Abbiamo finito ragazzi È uscito dal gioco Perfetto Allora signori Questa live è stata molto bella Ora vado a Vado a A tranquillizzarmi Sedia Io ti ringrazio per essere stato in live Fino a quest'ora Basta Va bene bro Ciao bello Non è possibile Perché Una Una condizione del genere In cui mettono un sacco di giocatori A giocare È andato Weaboo Ha detto solo questo E se è andato Signori Hot dog Io sono rimasto traumatizzato Da questa live Io pensavo che sarebbe andata Molto meglio Mi fa male Va allora bro Io sono Sono infastidito Allora Ti devo dire la verità Sono contento Che non siamo arrivati ultimi Quella è la tua onesta reazione Comunque Nova Appena mandato la comunicazione Meno 5 round Veramente Sì ma Ancora 5 round Potrei averti mentito Per farti uscire Sul serio? Sì Cioè in che senso Che siamo Abbiamo finito? Sì Ok No in realtà io sono ancora in live In partita Tu sei in partita Io ho acquittato Ah E va bene Io invece Io fra non voglio Pensavo che sarebbe durata di meno No Troppi round Mi fa male la vita Ogni cosa La vita mi fa male Tutto 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 La live finisce con sé Mi fa male Io ve lo giuro Non ho più forza Di fare niente Non ho più forza Mi fa male ogni cosa Di fare Assolutamente Sono pericoloso Per le persone Mentor Pensa ai muratori Che va a spaccarsi la schiena Io gli spaccherei Tutto il giorno Di Fall Guys Poi vediamo i muratori In che situazione psicologica Escono Meglio il sole E la morte Che Fall Guys Dio santo Mamma mia Ma poi Ma poi Ha vinto il sistema Ha vinto il sistema Basta Cosa ha vinto il sistema Ha vinto il sistema Devo alzare la luminosità Della mia webcam Queen Georgia Queen Georgia Ecco fatto Fall Eccomi qua Mi sa che manca uno di due Due vero Poldo ha avuto un breakdown Abbastanza potente No Poldo I livelli sono sempre più difficili Allora Non è una questione di difficoltà È una questione Che questo gioco È stato progettato Per essere Uno dei peggiori giochi L'hanno creato Con l'obiettivo Di piazzarsi nella lista Dei peggiori giochi Mai creati dall'umanità No No Ma sta così puccioso Sono dei fagioli pucciosi Ma puccioso È un paio di palle Non mi interessa niente Se è puccioso È snervante È il gioco dei casual players Non è un gioco Ma che casual Non è un gioco Ma cosa stai dicendo Ma quella parte dei martelli Ma nemmeno power La sa fare Eh ma Quello era un livello tipo Difficile ok Era forse tosto Perché C'era il senso Che si poteva riuscire Se impegnavi Però Nel senso Però Mi hai appena detto Che non mi sono impegnato Avevo il sudore Per passare quel livello Hai mai giocato a golf Era golf Dai era palesissimo Io a golf Non lancio le persone È gioco Lo sbagliato Che devo dire No veramente Io contatteremo i miei avvocati Tutti e tre Io sono in mutande E sto sudando Io non ho idea Di come questa cosa Sia possibile Per la prossima lobby Ti aspetto Vero perdone Come? Ti aspetto Per la prossima lobby Certo certo Aspetta che ti dico La risposta Nooo Me ne vado Ciao ragazzi Nooo E lasci così sedia Sì 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 Io non so perché sto continuando Perché mi sono male tutto Sì sì Io non ce la faccio Io non ce la faccio Io non ce la faccio Vabbè Ritirato No Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Non ce l'ho fatta Ma quindi sono squalificato No Siamo ancora in gara Posso giocare Se vuoi giocare Se no Siete liberi comunque Full la libertà Va bene So che sono tosti I livelli Fanno impazzire Mi sa che Poldo Ho già raggiunto il massimo Io sono impazzito Al secondo E tu non hai visto C'è anche il livello Per yard Che deve arrivare Cosa? No guarda Io vado a mangiarmi Una piadina Basta Ciao ragazzi È stato molto bello Ma avevo avvisato Che c'erano Avevo avvisato Che erano facile Poi difficile Nel senso Avevo avvisato No ma quindi Dovevi aspettare Avevo avvisato Non certo Ora sono molto più tranquillo Mi è rientrato Il sudore Nei pori Della pelle Guarda Poi mi conosci Non credi Se ne è il senso Mi fa male Ciao No È stato molto bello Alla prossima Ciao 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 ragazzi